Ben trovati da Nico Schiodetto, condizioni meteo per la giornata di martedì con un via vai di perturbazioni a nord delle Alpi, un esteso sistema perturbato arrecherà piogge diffuse su isole britanniche, Francia, Germania, l'Italia poco coinvolta. Nel dettaglio possiamo vedere della variabilità ma come dicevamo poche precipitazioni, un miglioramento al sud, qualche fenomeno in sulle Alpi settentrionali e tra lo Spezzino e la Toscana settentrionale. Ecco di fatti la variabilità in aumento al nord e sulle centrali tirreniche, qualche piovasco sull'alto